La situazione ha due step molto molto importanti, il primo è il centro sportivo, centro sportivo che stiamo costruendo nonostante la burocrazia, dovremmo iniziare i lavori o a giugno o a settembre, dipende da alcune carte che ancora devono arrivare, ma nel giro di un anno dovremmo avere un centro sportivo davvero invidiabile in tutta Italia, con 4 o 5 campi da calcio, con tutta una serie di agevolazioni per il pubblico che verrà a vedere gli allenamenti o le partite amichevoli, le giovanili per la stampa che avrà un settore dedicato, quindi una cosa molto bella alla quale teniamo molto. E poi stiamo dialogando con il Comune perché è tornata al Comune l'idea dell'impianto, quindi dello stadio nuovo. Io credo che lo stadio di proprietà sia una cosa di fondamentale importanza, sia per attrarre investitori, sia per avere quell'autonomia necessaria a far sì che una squadra sportiva, professionistica abbia tutto ciò che serve per essere conosciuto.